Di Eugenio Forni, Il paradiso e gli amici che vorrei, voce di Lorenzo Pieri. Quando Giovanni ritenne di morire, si trovò improvvisamente avvolto da un buio profondo e rimase inizialmente piuttosto perplesso. «Oddio», pensò Giovanni, «stai a guardare che di qua davvero non c'è niente, come diceva mio zio». La faccenda, col passar del tempo, ma quanto tempo, iniziò a procurargli un certo disagio e progressivamente anche una discreta angoscia. Per sua fortuna, là in fondo, molto, molto in fondo, individuò, o forse prima non c'era, un piccolissimo punto bianco. Giovanni sperò, la speranza è comunque sempre l'ultima a morire, che il punto bianco non fosse un'allucinazione e così iniziò a procedere nervosamente verso quella meta, con il suo bagaglio a mano. Su che cosa galleggiasse in un buio tanto, è difficile saperlo. Camminare camminava. E di strada ne faceva, visto che il puntino bianco, piano piano, diventava una luce che si ingrandiva sempre più, mentre Giovanni seguiva il suo destino. Dopo un lungo percorso, di preciso quanto lungo non sapremo mai, Giovanni iniziò a distinguere in lontananza, a volte da un'aura surreale, ne poteva essere diversa, due suole di espadrillas, sorrette da un tavolo, attaccate alle gambe di un uomo che se la prendeva piuttosto comoda, dondolandosi sullo schienale reclinabile della sua poltrona. Avvicinandosi, Giovanni scorse che quello si fumava alla Maremmana, un toscano importante, sorseggiava Rum da un balon fuori misura e ogni tanto pizzicava ritmicamente un contrabbasso che teneva al suo fianco. Giovanni prese a dubitare della situazione. Vuoi vedere, pensò, che non sono morto e sto sognando. Non gli restava che farsi sotto ulteriormente e indagare. Il personaggio alla scrivania, a dir la verità, non sembrava minaccioso come aveva temuto Giovanni, che dunque, superando la diffidenza iniziale, percorse gli ultimi metri, appoggiò la borsa a terra e con molto rispetto si mise sull'attenti davanti a lui, in attesa del giudizio. L'uomo gli sorrise, si alzò in piedi, gli porse la mano calorosamente e si presentò. «Buongiorno, signor Giovanni, io sono Pietro!» Giovanni accennò ad un baciamano, poi si ricompose. «Ah, lei è San Pietro!» «No, signor Giovanni, qui di Santi non ce n'è, io sono Pietro e basta!» «Mi scusi, signor San Pietro, anzi, signor Pietro, è che sa, mi aspettavo, ma sì, ha ragione, lei non ha nemmeno un mazzolino di chiavi. Appunto, come vede, non sono San Pietro, sono semplicemente Pietro. Mi perdoni, signor Pietro, ma sa, io qui sono foresto, siamo in un sogno, o sono morto per davvero?» «Perché ne so io, signor Giovanni, lei è morto sul serio e adesso è nell'al di qua!» «Al di qua?» fece Giovanni. «Sì, sì, al di qua! Cioè, per noi che siamo di qua, è l'al di qua. Per quelli che sono ancora di là, è l'al di là. Dunque questo è il nostro al di qua. Non so se mi spiego. Più o meno!» fece perplesso Giovanni. «Ma cos'è questo al di qua? Una sorta di purgatorio o di inferno? Ma di che sta parlando?» Pietro sorrideva. «Qui non ci sono né inferno, né paradiso, né purgatorio!» «Ah, scusi!» replicò timidamente Giovanni. «E che sa, nell'al di là, voglio dire, in quello che per me comunque prima era l'al di là e ora qui è l'al di qua, mi avevano sempre raccontato che o si finiva all'inferno o al purgatorio e alla fine per alcuni c'era un po' di paradiso. «Ma sì, lo so!» Pietro scuoteva la testa. «Sono le solite vecchie panzane. Stia tranquillo, si faccia un buon bicchiere. Grappa, whisky, rum, un locino?» Giovanni iniziava a rilassarsi. «Veda, signor Giovanni, qui funziona così. Lì c'è un computer collegato wifi alla memoria centrale. Si metta comodo a sedere, apra il suo file e si appunti subito con attenzione il suo numero identificativo perché sa, siamo in tanti. Ma, signor Pietro, in giro non vedo nessuno perché ognuno è nel suo cosmo, signor Giovanni, nel suo microcosmo, quello che si è scelto. Legga il suo numero seriale. Vedrà che abbiamo superato i cento miliardi di presenze. Le dirò, c'è stata anche una gran festa. E questo solo per la nostra sezione. Poi c'è la sezione degli animali e quella delle piante. «Anche per loro, signor Pietro, c'è un al di là, un al di qua, c'è questo lavoro qua?» «Chiaro che sì, signor Giovanni. E dove sta scritto che gli uomini abbiano diritto a un al di qua e tutti gli altri esseri viventi? No. Caro il mio signor Giovanni, piano piano capirà tutto. Entri nel file e inserisca i suoi dati. Io sono qui apposta per darle le informazioni che le serviranno». Giovanni obbedì e con molta calma, per non sbagliare, iniziò stralunato a compilare le risposte. Dopo una mezz'ora, fu poi una mezz'ora, Giovanni si fermò pensieroso. Pietro, che senza essere assillante lo stava osservando di sottecchi, fu subito pronto a svolgere il suo compito. «Problemi?» «Sì, signor Pietro, nel campo «software richiesto». «Ma cosa ci devo mettere?» «Ecco, vede, signor Giovanni, qui c'è il cuore del know-how dell'al di qua. Deve decidere lei come preferisce passare il suo tempo». «Ma di quanto tempo parliamo, signor Pietro?» «Beh, signor Giovanni, di tempo ce n'è un bel po'. Non starei a scomodare il concetto di eternità, che pur nell'al di qua continua ad essere ansiogeno e sfuggente anche per me, devo ammetterlo. Diciamo che lei ha tutto il tempo che le serve. Però, se vuole un suggerimento, poiché il programma lo prevede, scelga un periodo circoscritto. Ad esempio, quanto mi consiglia? Guardi, signor Giovanni, può partire con dieci o cinque anni o anche uno solo, se proprio vuole. Ma sì, conciliò Giovanni, forse è meglio iniziare con un anno soltanto. Dunque, signor Giovanni, quando era nell'al di là, avrà pur immaginato e magari spesso come avrebbe voluto fosse quello che lei chiamava paradiso. Sì, sì, signor Pietro, e come? Ecco, vede, signor Giovanni, nel campo Software richiesto, lei inserisca una descrizione di come desidera che sia il suo al di qua. Bell'idea, meditò Giovanni. Certo però che così, su due piedi. Non c'è fretta, lo tranquillizzò Pietro. Faccia pure con comodo. E riprese a fumare a grandi boccate il suo sigaro, dondolandosi avanti e indietro sulla poltrona, le spadrillas sul tavolo. Giovanni pensò e ripensò a lungo. Non era una scelta facile. Le do qualche idea, gli venne in aiuto Pietro. Una ragazza nuova ogni giorno? Direi di no, signor Pietro. Con le donne ho avuto sempre problemi, tensioni, insoddisfazioni. Poi, con quel che costano. Allora vuole con sé i suoi figli. Ma, signor Pietro, sono ancora vivi. Non importa, signor Giovanni. Qui lei può avere quello che vuole. No, no. I miei figli no. È un pezzo che non li vedo. Venivano di malavoglia e giusto per Natale. Sa, dicevano che gli ospizi mettono tristezza. A loro. Si figuri a me che ci ho passato gli ultimi sette anni. Capisco. Senta, signor Giovanni. Che ne pensa di una bella montagna di denaro con cui comprare ogni giorno quel che le pare, tipo paperon de paperoni? No, signor Pietro. I soldi non mi sono mai risultati decisivi nella vita. Allora, signor Giovanni vuole il software più richiesto, secondo le nostre statistiche? E cioè, il software Sono Dio. Come, signor Pietro? Non c'è già un Dio? E che ne so, signor Giovanni? Io sono qui da un pezzo e non l'ho mai visto né sentito. Magari c'è, ma si fa gli affari suoi. E quindi, signor Pietro, questo software come funziona? Lei nel suo microcosmo è Dio. Fa e disfa a suo piacimento. Interessante, signor Pietro. Però no, troppa responsabilità. Piuttosto, mi faccia pensare. Potrei avere i miei vecchi amici? Bravo, signor Giovanni. Compili il file. Giovanni, con il mouse, cliccò sul campo Software richiesto e digitò Vorrei passare il primo anno nell'aldiquà con i miei amici. Restò qualche minuto pensieroso. Poi aggiunse Non i miei amici con tutti i difetti che avevano sulla terra. Desidero i miei amici, ma senza difetti. Amici perfetti. Bene, commentò Pietro, che in qualche modo leggeva in tempo reale quello che scriveva Giovanni. Vada ora sul campo Location e indichi dove vuole fare base. Buona anche questa idea, borbottò Giovanni. Vediamo, vediamo. Saint-Tropez. Mi sembrerebbe eccellente. D'accordo, signor Giovanni. Lo inserisca nel file e le suggerisco il periodo di prova. Sarebbe a dire Lei avrà una settimana di tempo, signor Giovanni, nel corso della quale potrà sperimentare l'aldiquà che lei ha programmato. Sì, ottima idea, signor Pietro. D'accordo, clicchi su periodo di prova. Ma attenzione, ha una durata standard solo una settimana, non di più. E buona fortuna. Il lunedì, Giovanni ricevette la visita del suo amico Alessandro. Che giornata memorabile fu sulla diga foranea a godersi il mistral che spazzava il golfo di Saint-Tropez, a ricordare i tempi andati, a meditare sui massimi sistemi con l'aiuto di dozzine e dozzine di ostriche belons, bretons, marins, di tutte le carature, accompagnati da fiumi di Bilcà, Salmon-Rosé. Sembrò davvero di vivere uno di quei rari momenti in cui si comprendono le sfuggenti regole dell'essere e del divenire. Non era l'Alessandro dell'aldilà, non era così depresso e nichilista. Era un Alessandro positivo e concreto, tutto un altro amico. Però, quando Alessandro se ne andò verso l'imbrunire di quel lunedì, Giovanni rimase pensieroso. Questa edizione di Alessandro non era così profonda come l'originale. Martedì, subito dopo colazione, venne il suo amico Luca, prima a regatare verso le isole di Hyères, poi a nuotare nelle magiche acque delle piscine naturali, sotto il faro di Cap Camarà, infine a godersi il sole al tramonto alla fonda, nella baia dei Cannabier. Anche Luca non era in edizione originale, era il suo amico Luca, ma senza il principale difetto, non era così opportunista e discontinuo nel suo affetto. Era un Luca presente e costante. Il martedì sera, mentre Luca si allontanava, Giovanni non riuscì però ad evitare di pensare che questo Luca non era divertente come il Luca dell'aldilà. Mercoledì fu la volta di Tommaso, una giornata a sfidare l'intera spiaggia a beach volley, con una rinnovata intesa che nemmeno ai tempi d'oro avevano avuto. Tommaso non era qui così arrendevole nei momenti topici come Giovanni se lo ricordava, ma al crepuscolo, mentre Tommaso salutava, Giovanni si ritrovò ad essere scontento anche di lui, troppo aggressivo e litigioso, non era il Tommaso equilibrato che aveva frequentato sulla terra. Giovedì passò a trovarlo Camillo, e fu un giovedì di musica nella plage dei Tahiti, la mattina con la chitarra a squarciagola, il pomeriggio all'happy hour con le basi del karaoke e i microfoni a tutto volume, la sera sul mare, con l'accompagnamento di un languido pianista, e un numero imbarazzante di bottiglie di Krug millesimato, con castelli di crudité a crepa pancia. Camillo non mostrava quella punta di gelosia e quell'accenno di invidia dell'aldilà. Confessò finalmente per la prima volta di avere letto tutto quanto aveva scritto Giovanni in vita, perché Giovanni era uno scrittore. Quando Camillo se ne andò, Giovanni si inciampò comunque a pensare che il Camillo vero era più fragile, sì, ma anche più tenero e coinvolgente. Venerdì l'arrivo di Sofia non diede tutta la prevista soddisfazione a Giovanni. Passeggiarono avanti e indietro fino a sera per ogni stradina recondita dell'Ancien Village. Entrarono in qualunque negozio a comprare qualunque cosa, poi si fermarono per aperitivi in tutti i caffè e bistrò del porto. Era una Sofia più calda e finalmente affrancata da quel marito tedioso. La nuova Sofia gli risultò, sì, ricca di personalità, ma piuttosto opprimente. Sabato fu Fabio a deludere Giovanni. Dentro e fuori dai locali del Troppe a caccia di ragazze per il solo gusto del corteggiamento, delle boiate da raccontare, dei siparietti da improvvisare. Rientrando all'alba, cantando ubriachi, un'atmosfera triste galleggiava tuttavia nell'aria. Non era il Fabio superficiale, iracondo e vagamente immorale che Giovanni aveva conosciuto. No, quei difetti non li aveva, ma finiva con l'essere prevedibile e banale. Domenica, quando Lino suonò il campanello, Giovanni presagì già come sarebbe andata. Dalla mattina alla sera in Place de Lis a giocare alla Petonque e a scacchi con gli anziani del posto, ad ascoltare e raccontare storie mirabolanti tra un pastis e un perno. Lino finalmente aveva perso la sua grettezza e la sua avarizia, ma era anche poco definito e privo di mordente. Giovanni sapeva già che entro sera doveva a tutti i costi fare visita al signor Pietro prima che gli scadesse la settimana di prova. Trovò il signor Pietro sempre là, al suo posto, stravaccato sulla poltrona, i piedi incollati alla scrivania e un cubano fuori serie in bocca. Signor Pietro, signor Pietro, lo affrontò subito imbarazzato Giovanni. Pietro sorrise, lo stava aspettando. E allora, signor Giovanni? E allora, signor Pietro, il periodo di prova non è andato per niente bene. Capisco, signor Giovanni, succede spesso. Entri nel suo file, clicchi su nuovo software e lo descriva, ma in fretta che le restano pochi minuti. Giovanni aprì il campo apposito, meditò alcuni secondi, poi digitò d'un fiato «Basta, amici perfetti, ridatemi i miei amici, quelli veri e con tutti i loro difetti, per carità!» per carità! Grazie a tutti! Grazie a tutti.